Si chiama videodermatoscopio, un macchinario che arriva al San Bassiano grazie alla donazione dell'associazione oncologica San Bassiano Onlus. È uno strumento di ultimissima generazione che serve a prevenire il melanoma, patologia della pelle in netto aumento anche nell'Ul7 con 90 nuovi casi all'anno. Siamo in un'area dove i soggetti dal punto di vista genetico sensibili sono più numerosi che altrove e quindi è un'attenzione che noi dedichiamo a questa patologia, il melanoma, che se diagnosticato precocemente come tutti i tumori può essere trattato e consente una sopravvivenza a 5 anni molto elevata, vicino al 90%. È una videocamera digitale che viene poggiata sul neo e permette un ingrandimento da 20 a 80 volte della lesione stessa e soprattutto l'archiviazione, quindi l'analisi si fa sul monitor e poi l'archiviazione nel database del computer. Cosa che prima non si poteva fare. Prima non si poteva fare. Questa strumentazione permette anche di evitare asportazioni inutili. Assolutamente sì, perché se il neo o la neoformazione non si modifica nel tempo è chiaramente una lesione benigna e quindi si può lasciare. Ci fidiamo fino a un certo punto, poi magari rivediamo il paziente a intervalli più lunghi. Melanomi in aumento? Melanomi sicuramente in aumento, abbiamo detto che ce ne sono circa 14 mila nuovi casi l'anno in Italia. C'entra sempre il discorso anche legato, oltre alla genetica, all'esposizione del sole. L'esposizione che è l'unico fattore di rischio esogeno che conosciamo, le ustioni solari sofferte durante l'infanzia, ma anche le lampade, le lampade ultravioletti. Fondamentale il legame pubblico-privato. Ci sembra giusto che la nostra missione arrivi anche dove magari il pubblico non arrivi, in sinergia magari con altri sostenitori, come industriali, che ci sono sempre vicini. Quindi mettendo a disposizione il ricavato del 5 per 1000 è giusto poi ridonarlo alla popolazione.